Discontinuità per il rinnovamento del PD, troveremo la strada, ma discontinuità di sicuro. Discontinuità cosa vuol dire? Fatemi andare che è tardissimo, non coprire la sconfitta, analizzarla, parlarne, capire perché, e andare avanti con il rinnovamento. Alleanze possibili che ci sono in questo momento? Per me in questo momento non ci sono, avete dietro le mie spalle il coltello che mi hanno già affiantato i 5 stelle di mio tempo. Ma quando? Per carità!